Un gesto di responsabilità ed una condivisione su temi ed obiettivi per Remore Cauti, consigliere comunale ad Ortona, che entra nella nuova maggioranza del sindaco Leo Castiglione, portando i consiglieri che lo appoggiano a nove. Abbiamo ragionato con l'amministrazione, con il sindaco e con la sua squadra, abbiamo ragionato sui temi e sugli obiettivi, perché il momento storico chiede responsabilità. È un momento delicato e commissariare la città in questo momento sarebbe stato deleterio per lo sviluppo della stessa. Pertanto, ragionando sui temi, abbiamo trovato una convergenza sui temi che ho sempre portato all'attenzione del Consiglio Comunale, in ultimo nel bilancio di previsione, che sono il sociale, la scuola, il turismo e lo sviluppo economico. Sono giunto a questa conclusione anche a seguito di un percorso che mi ha visto presentare una proposta di governo della città in un'altra coalizione. Una coalizione con cui mi sono trovato sempre meno a mio agio, perché gli obiettivi non erano più gli stessi, i metodi non erano più gli stessi, tant'è che nelle ultime settimane le aggressioni personali e professionali che ho subito hanno fatto sì che io mi distaccassi definitivamente da quel gruppo. Il sindaco Leo Castiglione ha presentato in conferenza stampa la nuova maggioranza ed ha sottolineato che, seppur composta da nove consiglieri, si presenta la città forte e coesa. Oggi abbiamo presentato una nuova maggioranza consigliare, una maggioranza che è nata sui temi e sugli obiettivi, obiettivi importanti per la crescita della città, come la scuola, il sociale, lo sviluppo economico, il turismo. E dopo il ritiro delle mie dimissioni, al mio appello fatto in Consiglio Comunale, al senso di responsabilità, c'è stata la risposta e la condivisione di questo nuovo percorso da parte del Consigliere Morecauti. E quindi oggi sono felice perché sarà una maggioranza coesa, una maggioranza forte, che avrà un unico comune denominatore che si chiama Lavoro per la Città, il quale sarà il collante anche dei nove consiglieri.